Ragazzi Un ospedale farebbe abbastanza bene Perché Ho appena vinto La sfida di Grom Una sconfitta Ragazzi io ve lo dico Quella di Griff Ragazzi è stata tipo impossibile Ma questa ragazzi Una semplicità veramente incredibile Ho fatto solo una sconfitta Guardate questa Ma Guardate ragazzi Guardate che godure A parte ragazzi che Cioè appena uscita la sfida L'ho subito fatta Credo quindi di essere Il primo al mondo ad aver ottenuto Grom Ovviamente ho giocato con questi due Poi si con la lente Ragazzi io ringrazio questo Non riesco a leggere il nome Guardate il suo profilo Che è l'amicizia Poi guardate questo Che ha già poi il disegno di Grom Guardate ragazzi Ecco fatto Mi raccomando Ponete la sua amicizia Perché ragazzi Sono dei campioni E io Ho Grom Guardate qua ragazzi Che godure a questo brawler Cioè ragazzi Qua mi dice Che si sblocca Tra sette giorni e quindici ore Ma ragazzi Ma che stai a dire Io ce l'ho già Mamma mia ragazzi Io mi devo riprendere Perché Non sto bene Ho il cuore a 300.000 Ragazzi Spero che voi l'avete vinta Perché era abbastanza facile Devo essere sincero Perché Avevi quattro sconfitte Se perdevi Spendevi una gemma E ti davano altre due possibilità Perdevi una possibilità Con una gemma E poi un'altra volta ancora Quindi ragazzi Praticamente Avevi un sacco Di possibilità Che potevi avere Io ragazzi Non ho dovuto spendere Neanche un minimo Dalla mia tasca Non ho dovuto spendere Neanche un centesimo Ragazzi Guardate qua Guardate qua Ok Ovviamente Le ricompense Poi delle vittorie Erano solamente Casse brawl Però ragazzi Mi hanno dato Mi hanno dato Un equipaggiamento Che ora manco so qual è Boh Andiamo un attimo qua Alla caso Ah Eccolo Eccolo Io mi Ragazzi Potenzio Jesse Faccio questo E vabbè Poi anche Tanti altri Equipaggiamenti Ragazzi Che vi devo dire Io Qui c'è un bug Qui mi dice Che io Ho l'equipaggiamento Ma non è vero Lasciate perdere Ragazzi Io Boh Non so che fare Sono tutto sudato No in realtà Non sono sudato In realtà Però ho il cuore Che mi batte Che ho i battiti A 100 all'ora Non l'avevo visto Non l'avevo proprio visto E praticamente Praticamente quando finisce il pass Il tempo Per fortuna Comunque ragazzi Io veramente Se lo sono sudato No Ancora che continuo Questo non dire su un altro Che non è vero Perché io sapevo già prima Quali erano le mappe Però Io avevo detto Allora Ricercate rapina Diciamo che sono abbastanza facili Però così così Perché non si so mai C'è sempre quella piccolissima Percentuale Che ti fa perdere Però è andato tutto bene Però era raffagema Ragazzi Che dicevo no Io a raffagema Non ce la posso fare Qui ragazzi La perdo Ci vuole un miracolo E praticamente ragazzi Questa mappa Qui tutti si mettono Tara Tara a tutti Tara a tutti E poi O Sandy O Eugenio O Rosa Ems Semino Poi ho visto anche un Buzz Questi Questi bolle che vi ho detto Sono quelli che workano Infatti ragazzi Vi ho fatto vedere Guardate Dalla raffagema In poi Tara 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 E qui non c'è Tara Perché sono stupidi Senso Fessa Ma infatti Questo che sta da Guarda Non vi dico Non vi dico Easy Perché guarda Vi faccio un attimo Vedere il replay Vabbè ovviamente qua Stavo Stavo tipo morendo Lascete perdere Lascete perdere io Che stavo tipo Soffocando Ecco qua ragazzi Vedete Guardate ragazzi No no Più in qua Allora Aspetta 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 Ecco qua Qui 12 11 Vedete già Eugenio Che lo voleva grabbare E qui Uccidono ovviamente Perché sono tutti arrabbiati Ma poi Io con 8 di vita Con 8 gemme Guardate ragazzi Che Che coincidenza Niente la vinciamo Perché Non ce l'hanno fatta E meglio per noi Ragazzi Io vi voglio dire una cosa Se arriviamo a Quanti like Fammi ci pensare Dai ragazzi Per questa sfida Dico un numero impossibile 20 Faccio un video In cui faccio grom A grado 20 E se quel video Di faccio grom A grado 20 Faccio un video Dove Praticamente lo arranco Al numero più possibile Immaginabile Ovviamente Non grado 35 Ma Gioco finché Non riesco a un certo punto Troppo sempre Non so se mi sono spiegato Ma ragazzi Ragazzi Io vi devo chiedere questo video Perché non ci sto credendo Niente ragazzi Al prossimo video Ciao Oh mamma mia Ciao 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 Grazie.